Grazie, molto bene. Dottoressa, come va? Buongiorno. Allora, prego, si è comodi, Presidente. Allora, la Corte Costituzionale rendo il Parlamento. Grazie, siamo a posto, giusto? Siamo a posto. Siamo a posto, Presidente. Il collegio è completo, è completo. È un momento veramente da immortalare. Bene. Era un'attesa lunga, che uscì Luigi Mazzella e l'abbiamo dovuto attendere. Avete meditato. Certo. Diciamo che si è approfondito e si è voluto arrivare poi sulla scelta più giusta. Bene. E quindi adesso tante cose, insomma, davanti a voi. Tanti impegni. Abbiamo molto impegno, anche perché ormai la Corte è diventata giuridico...